Sarà il giornalista e scrittore Antonio Mancinelli a presentare il romanzo di donne e pensieri velati, scoprire se stesse e cambiare il corso degli eventi di Agatha Comandé, edito dall'albese casa editrice Antares, che dal 1994 pubblica volumi che promuovono il territorio cunese, privilegiando gli autori locali. Il libro della scrittrice braidese Agatha Comandé, donne e pensieri velati, scoprire se stesse e cambiare il corso degli eventi, sarà presentato questo venerdì 29 giugno alle ore 21 presso la sala Auditorium Cassa di Risparmio di Ibra da Antonio Mancinelli, giornalista di fama internazionale, editore e scrittore. Sarà l'assessore provinciale trasporti Roberto Russo ad aprire i lavori del seminario La sicurezza stradale nei centri urbani, in programma questa mattina a Narzole, nella sala polifunzionale di Palazzo Balocco. Il convegno sarà organizzato dallo studio Traffic Club, del gruppo di progettazione Progetto Club, con il patrocinio della provincia, e rivolto ad amministratori, tecnici e operatori di polizia, per una corretta programmazione degli interventi di sicurezza stradale. Verranno distribuite gratuitamente alla cittadinanza questo venerdì le borse in cotone lavabile fatte realizzare dall'amministrazione braidese per invitare i cittadini a ridurre l'utilizzo di materiali non biogradabili o non riciclabili per confezionare i propri acquisti. L'appuntamento è in piazza Caduti per la Libertà, davanti al comune dell'ora 10 alle 12.30, dove i funzionari dell'ufficio ambiente del comune di Bra consegneranno a tutti i cittadini le nuove eco-bag. L'iniziativa, come spiega il vice sindaco Marcello Lusso, si inserisce nell'ambito del progetto volto alla riduzione e alla progressiva eliminazione dell'utilizzo di borse di plastica. Le shopper bag sono state realizzate con il contributo del consorzio Coapser della Dita Imeri e Nova Mont.